Il comune di Agropoli è risultato destinatario di un finanziamento regionale pari a 1,3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Mattine. L'intervento prevede la realizzazione di una struttura che sorgerà in via Malagenia, adiacente alla scuola materna e primaria esistente. La nuova costruzione sarà in grado di ospitare due sezioni di scuola primaria. Il progetto prevede che il nuovo edificio includa una segreteria, una sala docenti, un ufficio per il dirigente, oltre a uno spazio destinato a deposito archivi, una palestra di 200 metri quadrati, un'ampia aria parcheggio di oltre 500 metri quadrati e un giardino di circa 1000 metri quadrati. I pati interni sono progettati come orti didattici ed hanno una funzione importante sia per il benessere climatico che per la distribuzione interna degli spazi. Questi sono ad esclusivo uso della scuola e delle aule. Il giardino esterno potrà essere utilizzato a prescindere dall'utilizzo della scuola. Questo sarà piantumato con essenze erbore ed arbustive proprie del territorio. Intorno ai pati interni si svilupperanno le aule cui si accederà da due camminamenti. Lo spazio per la palestra è direttamente collegato alla scuola, oltre che dotato di servizi locali spogliatui. Ancora una nostra idea, dichiara il sindaco Coppola, che si accinge a diventare realtà. A dimostrazione della nostra massima attenzione ad ogni angolo della città, ci apprestiamo ad arricchire la località mattina di un altro istituto scolastico, che sarà dotato tra gli altri di un parcheggio e di una palestra.